I duri colpi inferti dalla crisi covid ma anche le opportunità legate alla ripartenza grazie all'arrivo delle max risorse previste dal recovery fund. Gli imprenditori tracciano la linea dei mesi a venire per una nuova prospettiva di sviluppo per la Campania così come per l'intero sud, sfruttando non solo i fondi messi a disposizione ma anche le opportunità della transizione ecologica. È il messaggio che arriva da Marco Gambardella, presidente dei giovani di Confindustria Salerno, ospite della rubrica Punto di Vista condotta dal direttore di 8 Channel 696 Pierluigi Melillo. Sicuramente questa crisi ha aperto vari scenari, uno di questi è quella della transizione ecologica ma anche di fattor comune, investire su infrastrutture che possono rendere e sostenere le nostre imprese sia in un momento difficile come quello che dicevamo prima delle materie prime sia un momento anche di futuro attraverso un ambiente più sostenibile, attraverso prodotti e processi più sostenibili e questo sicuramente grazie anche alla forte mole di denaro che arriverà dalla Recovery Plan sicuramente deve essere un obiettivo non solo di ogni singola impresa ma un obiettivo sistemico di tutte le imprese. Fondamentale per il mondo delle imprese è anche avere meno vincoli burocratici solo così si potrà lavorare all'ambizioso obiettivo di ridurre il divario tra nord e sud del paese. Il Recovery Fund in questo momento è un'opportunità non solo per ridurre il gap tra sud e nord ma soprattutto per ridurre il gap tra l'Italia e il resto del nord Europa. Dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare per un sistema paese ma lo dobbiamo fare soprattutto per i nostri figli.